Allora, mister Zannini, un risultato di parità 1-1, le due reti entrambi nel secondo tempo e fase finale concitata? Assolutamente sì, non è venuto il risultato, però io penso che la prestazione c'è stata, non tanto sul piano tecnico, ma sul piano delle energie mentali e della forza di voler portare questo risultato al della vittoria che manca da parecchio tempo. I ragazzi però non gli si può rimproverare nulla perché hanno dato tutto, poi qualche piccola defaianza giustamente si è stata e c'è molto da lavorare ancora. Che dire, sulla classifica non possiamo assolutamente parlare perché non ci aiuta, però se parliamo di questi ragazzi come erano messi a livello tra virgolette dei più grandi che abbiamo, diciamo che Vitiello e Tizzi, che sono più rappresentativi, sono andati in campo, magari ancora gente più giovane, hanno dato il massimo, hanno dato tutto. Come dicevamo, mister, oggi qualche assente pesante, soprattutto in avanti, Vitiello era squalificato, anche Tizzi poi ancora qualche giorno prima di decidere quella calentità dell'infortunio. Guarda, ti dico, non tanto per il discorso che avrebbero potuto giocare all'inizio, sicuramente possono giocare anche all'inizio, ma più che altro per i cambi, perché siamo girati un attimo intorno, portavamo tanti centrocampisti in attacco solo a Nacciarridi, che per noi è un centravanti, secondo me, più esterno che centrale, quindi Davide era fondamentale che rimanessi a ridosso di due centrali per non farli venire su. Chiaramente ci ha riportato un pochettino, sono schiacciato sulla nostra difesa e dopo un paio di palloni è venuto la palla, questa clamorosa, che ci ha creato il pareggio. Però più di quello non si può fare, adesso i ragazzi bisogna tirarli su perché è importante tenerli sempre su durante la settimana, perché per me il campionato ancora non è finito e possiamo ancora tirare la nostra. Però ecco, oggi sulla partita di oggi, se guardiamo questa, non si può rimproverare niente da nessuno. Parliamo di quello che è stato durante la settimana, c'è stato un cambio della guardia, voglio salutare in maniera doverosa e nel rispetto Maurizio Mattoni perché ha fatto un lavoro strepitoso con questi ragazzi e adesso lascia perdere la classifica che per me dice poco, in quanto dice per quanto riguarda il campionato, ma dice poco per quello che è la realtà. Ci è stata molta sfortuna, tanto impegno e io voglio salutare in maniera onorevole Maurizio Mattoni che è stato tra l'altro, oltre che l'allenatore di questa squadra, anche il mio giocatore. Allora Dieste, un risultato di parità, un punto trovato alla fine per come si era messa la partita per quanto riguarda il Termoli? Sì, sicuramente una partita che noi non ci aspettavamo, è stata presa un po' sottotono da parte dei nostri ragazzi, abbiamo avuto due o tre occasioni da goal al primo tempo, però non siamo stati bravi a sfruttarle e siamo stati un po' fortunati nella seconda fase a strappare un pareggio. Ecco, due formazioni che stanno nei bassi fondi della classifica, quindi bisognerà un attimino rimborcarsi le maniche e soprattutto cercare anche di essere più concreti sul terreno di gioco. Sì, sicuramente. Noi veniamo da tre, quattro prestazioni positive, abbiamo fatto un buon lavoro sul mercato a mio avviso, insieme alla società abbiamo operato, chiaramente il mercato è ancora aperto, faremo ancora qualcosina. L'obiettivo è quello della salvezza e cercheremo con tutte le nostre forze di raggiungerlo.